Detto questo, quello che è importante è che si capisca che noi dobbiamo comunque parlare di Sardegna, dobbiamo parlare dei problemi dei sardi e delle priorità che interessano il nostro popolo e io voglio concentrarmi su questo. La cosa importante, questo lo devo dire, mi hanno molto colpito i fatti che sono accaduti nei giorni scorsi e soprattutto visto che io ho studiato a Pisa e conosco il vicolo di San Frediano, quello che è capitato a dei ragazzi perché i ragazzi che si sono fatti male sono andati in pediatria ma sono andati in ospedale. Ecco, questo ci deve ricordare che i diritti non sono scontati, ci si deve ricordare che niente deve essere dato per assodato e io sono felice da questo punto di vista che i sardi si siano ricordati della loro storia e che abbiano risposto ai manganelli con le matite.